Interviene Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia. La conferenza internazionale Grottaglie Spaceport for Europe presso l'aeroporto di Grottaglie rappresenta una significativa occasione di confronto e di approfondimento sul ruolo strategico che il Marcello Arlotta può svolgere nell'ambito dello sviluppo sempre più rilevante che in tutta Europa sta interessando la cosiddetta space economy. Come noto infatti l'infrastruttura grottagliese è stata recentemente designata dal Ministero dei Trasporti a seguito di una complessa ed approfondita selezione tecnica quale unico spazioporto in tutta Italia e questo la pone al centro di grandi opportunità dal momento che nel prossimo futuro sarà sempre più catalizzatore di grossi investimenti per tutta l'industria aerospaziale non solo italiana. E questa attenzione da parte della Regione Puglia continua e continuerà sia con gli investimenti già stanziati per l'ammodernamento e la riqualificazione della struttura sia con il lavoro che si sta compiendo per consentire l'utilizzo regolare dell'aeroporto Arlotta anche per i voli civili come ribadito anche di recente dal Governatore Michele Emiliano. E conclude così Borracino, sono molto soddisfatto per il lavoro che si sta compiendo in questo campo e assicuro il massimo impegno e la massima determinazione per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che come Governo regionale ci siamo posti per incentivare lo sviluppo economico e quello turistico del territorio ionico attorno al rilancio pieno dell'aeroporto di Grottaglie.